Continuano le visite istituzionali del questore di Caltanissetta, Penuccio Albertina Agnello, nei comuni della provincia Nissena. Il questore è stato in visita al comune di Campofranco, dove ha incontrato il sindaco Rosario Nuara e il sindaco di Acquaviva Platani, Salvatore Caruso. Gli incontri istituzionali e i sindaci della provincia Nissena sono l'occasione per conoscere meglio le varie realtà del territorio e le sue problematiche al fine di ottimizzare le azioni preventive e repressive di contrasto alla criminalità ed elevare al contempo il livello di sicurezza e prossimità verso la cittadinanza. Il questore sta sensibilizzando gli amministratori locali sui contenuti della direttiva ministeriale avente a oggetto modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, richiamate da ultimo da una circolare della questura di Caltanissetta, diretta anche ai sindaci al fine di adeguare livelli di sicurezza in occasione delle pubbliche manifestazioni. Campofranco è un paese che sorge su una zona collinare a 350 metri sul livello del mare ed è il comune più occidentale della provincia al confine con quella di Agrigento, in particolare con le comunità di Aragona, Castel Termini e Grotte. Le tradizioni religiose e folcloriche di Campofranco vantano quattro secoli di vita da quando nel 1573 il nuovo borgo fu popolato da un gruppo di cittadini di Sutera, attratto dalle agevolazioni economiche offerte a chi si fosse stabilito nel nuovo casale che poi avrebbe dato la genesi al nuovo comune di Campofranco. Poco distante si trova Acquaviva Platani, piccola comunità di circa mille abitanti, distante 65 chilometri da Caltanissetta e confinante con i comuni agrigentini di Cammarata e Castel Termini. Il comune, grazie all'intervento del PNRR, ha presentato il progetto per lo sport e l'inclusione sociale con l'intento di realizzare parchi e percorsi attrezzate all'aperto dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera.